Non ci serve questa settimana per metterci a posto con la situazione coronavirus perché noi abbiamo aperto in funzione del coronavirus. Quindi monitoraggio sempre di chi entra con usurazione della febbre, autocertificazioni covid, distanza di sicurezza con i segni che si vedono a terra due metri per due metri, i corsi non hanno più di sei persone, è tutto disinfettato con detergenti disinfettanti a norma per cui noi non abbiamo alcuna paura. La paura ovviamente sta nella responsabilità e nel buon senso delle persone che se hanno sintomi influenzali purtroppo non possono venire, ma per il resto le palestre, almeno a mio avviso, sono un posto sicuro. Siamo aperti da settembre e facciamo le corna, non è ancora successo nulla, quindi non ci sono state segnalazioni per cui mi sembra un posto dove il distanziamento c'è. Anzi, è indicata l'attività motoria per prevenire e aumentare le difese immunitarie. Non si può assolutamente chiudere anche per quelle persone un pochino più deboli che hanno bisogno di questo. E se nella prossima conferenza stampa dovessero ulteriori limitazioni, prima di arrivare alla chiusura che non è stata comunque esclusa, da questo punto di vista le tue osservazioni? Noi ci atteniamo sempre a quello che ci viene detto, non possiamo fare di testa nostra, col virus non si scherza, se c'è bisogno si fa, ma ritengo quasi tutto un pochino troppo eccessivo. Secondo me, già come stiamo ora, siamo sufficientemente a norma e in sicurezza. Le persone che vengono qua non si sono mai lamentate, è tutto pulito, non qua, in generale nelle palestre, perché conosco colleghi che anche loro disinfettano la mattina e la sera, vai a distruggere il lavoro, cioè avresti persone a casa che non sanno come andare avanti, non mi sembra il caso. Diciamo che noi, per quanto riguarda la situazione delle palestre, abbiamo adottato ogni misura di sicurezza, quindi mascherina obbligatoria, l'entrata in uscita, anche durante l'allenamento, di tendere la mascherina, ecco, magari solo durante l'esercizio fisico, di abbassarla, e per sporsarsi, per quanto riguarda nella struttura, comunque sia di tenere la mascherina. I gel igienizzanti, microfibre per pulire i vari attrezzi, quindi con soluzione a base di alcol, cose del genere, distanziamento, abbiamo messo tutti i vari cartelli per quanto riguarda anche di tenere una certa distanza anche durante gli allenamenti. E diciamo che, ecco, abbiamo cercato di fare il possibile per rendere la struttura sicura e anche per quanto riguarda la nostra clientela, insomma, abbiamo notato che, ecco, sono anche abbastanza molto, diciamo, disciplinati, ecco. Ecco, appunto, con la clientela che è disciplinata, dicevamo in precedenza, una settimana importante, sia probabilmente anche in attesa di un nuovo DPCM, che potrebbe comportare anche l'utilizzo della mascherina obbligatorio in alcune attività e magari non in altre, tutto questo nella speranza che non si arrivi a quello che un po' tutti temono, ovvero la chiusura, che sarebbe un deficit grosso. Esatto, anche perché, infatti, un'altra chiusura ci renderebbe un pochino, diciamo, un po' inermi nella situazione, non sopremo infatti come affrontare. Diciamo che il periodo, ecco, è stato abbastanza... abbiamo accusato, ecco, insomma, però adesso cerchiamo di riprenderci in modo abbastanza... con una marcia in più, ecco. Più di così non sappiamo come fare, però nel possibile cerchiamo di fare il nostro meglio. Adesso aspettiamo questa settimana, Conte ha detto che è una settimana, diciamo, di prova, e poi vediamo nelle prossime settimane come evolverà la cosa. La situazione in realtà qua è abbastanza tranquilla, cioè nel senso siamo tranquilli noi perché comunque è un ambiente super controllato. Cerchiamo sempre di tenere tutto a posto, sanificazioni, pulizie, tutto quanto. Chiaramente l'ingresso è solo su prenotazione, quindi non c'è nemmeno rischio di ritrovarsi con troppa gente e quindi non mantenere le distanze. Abbiamo cercato di spostare anche al meglio tutte le attrezzature, di chiudere le docce addirittura in alcuni orari serali in cui sappiamo che magari c'è un po' più di movimento. Diciamo che ce la stiamo mettendo un po' tutta, però stiamo a vedere cosa combina questo weekend. Esatto, perché si parla anche di un nuovo DPCM che potrebbe comportare l'utilizzo della mascherina anche in determinate attività fisiche e magari in altre no. Tutto questo nella speranza che però non si ritorni all'inevitabile, quello che tutti non vogliono è la chiusura totale delle palestre. Esatto, allora l'utilizzo della mascherina la vedo molto dura, nel senso che mentre uno si allena, pure queste che sono magari le più leggere sono insopportabili su di un attimo e non ce la fai tenerle. Quindi spero non sia... non diventi obbligatoria sta cosa, ecco. E per il resto stiamo a vedere, dicono che venerdì dovrebbe uscire qualcosa. Speriamo bene. La chiusura mi auguro proprio di no. Cioè due chiusure in un anno sarebbero veramente troppo. Cioè due chiusure in un anno sarebbero veramente troppo.